Musica Ben trovati su Teletruria per un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo il nostro telegiornale con lo sport perché l'Arezzo ha fatto davvero una grande prestazione a Livorno. Gli Amaranto non vincevano in campionato dal 1975, ora hanno sette punti di vantaggio sulla pianese. Meglio di così non poteva finire, vittoria netta, quattro gol, due pali, due spulsi nelle file del Livorno che ha tentato di giocarsela per poi pagare un prezzo salato. La risposta dell'Arezzo dopo l'opaca vittoria della scorsa settimana con il Città di Castello non si è fatta attendere e alla fine i giocatori Amaranto sono andati a festeggiare con gli oltre 500 tifosi che hanno occupato il settore dello stadio a loro riservato. I indiani nel post partita ha tenuto bassa la tensione ma tra l'Arezzo e la Serie C ormai è solo questione di tempo. Squadra troppo più forte, costruita per vincere, gestita con grande arguzia da un allenatore che sarà anche poco social ma che ha un grosso merito, quello di sapere vincere i campionati. In tutta la carriera nove volte le sue squadre sono arrivate al primo posto. L'Arezzo è sul punto di dargli la decima soddisfazione personale. Un vecchio adagio dice che ci vuole pazienza. Iannacci scriveva che ci voleva orecchio e a Livorno ci hanno sentito molto bene. Incidente questo pomeriggio a Badia Alpino erano le 16.40 circa quando sono stati allertati i soccorsi. Due persone a bordo di uno scooter sono rimaste ferite sul posto in via Boschi. Sono a corsi sanitari dell'emergenza urgenza che hanno allertato il Pegaso. Presenti anche i carabinieri. Le persone ferite inizialmente sembrava un codice rosso ma dopo la valutazione degli operatori sanitari i traumi riportati sono risultati da codice giallo. Sono due uomini di 32 e 23 anni. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale senese delle scotte. Ciclista cade in un sentiero impervio di Lignano salvato grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Drammatica disavventura questa mattina per lungo le strade che portano a Lignano. L'uomo è caduto durante un'escursione. È stato subito allertato il 118 ma il 51enne si trovava in una zona difficilmente raggiungibile dei mezzi di soccorso dell'emergenza urgenza e per questo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Poco prima delle 12 sopra i cieli di Lignano si è quindi alzato in volo l'elisoccorso Drago. I vigili del fuoco sono riusciti in breve tempo a individuare il ferito. Lo hanno soccorso immobilizzato insieme al personale sanitario. Quindi è stato essato con un verricello a bordo dell'elicottero e trasportato all'ospedale di Arezzo. Il ciclista, stando alle prime indiscrezioni, avrebbe riportato lesioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Si celebra oggi la giornata contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari con aggressioni sempre più frequenti soprattutto nei pronto soccorso. Il presidente di Opia Resto, Giovanni Grasso, chiede aiuto ai cittadini. Presidente Grasso, oggi è una giornata importante per l'ordine degli infermieri. Sono ancora troppe le aggressioni. Pensiamo alla campagna che è partita proprio qui da Arezzo contro la violenza. Purtroppo è un tema noi caro e chiaramente siamo sempre con riflettori accesi su questo tema. Quindi la violenza contro gli operatori è un atto indecente e incivile che non crea nessun tipo di sicurezza né per i pazienti né per gli operatori. È impossibile che ancora nel 2023 si riesca ad ottenere l'89% di aggressioni nei confronti personale sanitario. 4.000 aggressioni l'anno e queste 4.000 aggressioni creano un danno economico anche al sistema sanitario. Pertanto è necessario ancora di più battersi per questa nostra battaglia che abbiamo fatto fin dal 2019. Devo ringraziare per appunto anche l'emittente televisiva Teletruria che ha creduto in noi, ha creduto nel lancio del primo spot contro la violenza per accendere anche in Parlamento e in Senato l'argomento portando poi alla legge 113 del 2020 che ci ha permesso finalmente di avere comunque dei punti chiave che non bastano sicuramente perché inasprire le pene per chi si rende colpevole di un'aggressione nei confronti personale sanitario non è la soluzione. Lo sappiamo, soprattutto creare anche dei presidi di polizia sia privata sia pubblica all'interno dei presidi ospedalieri. Però è necessario comunque creare interesse su questo argomento perché è molto evidente. È necessario però creare un patto di alleanza con i cittadini e soprattutto con tutti coloro che usufruiscono il sistema sanitario perché è necessario anche capire che nel momento in cui un operatore è fuori uso perché magari è aggredito da un familiare di un codice minore, nell'altra stanza c'è un codice rosso che deve essere gestito. Sarà fatto il punto in Regione sulla situazione della IVV di San Giovanni Valdarno. I forni sono stati spenti da novembre ed è terminata la cassa integrazione per i dipendenti. Lunedì prossimo 13 marzo alle ore 10 in Regione Toscana si terrà un incontro sull'Ivv di San Giovanni, azienda al centro di una situazione molto complicata, acquita negli ultimi mesi dall'esorbitante aumento dei costi energetici. Vi parteciperanno i vertici della cooperativa con in testa il Presidente Simone Carresi, i sindacati e l'amministrazione comunale. L'Assemblea vedrà la presenza di Valerio Fabiani, consigliere del Presidente Gianni per le crisi aziendali e avrà lo scopo di fare chiarezza, se possibile, su quale sarà il futuro dello stabilimento sangiovanese e delle 40 persone che vi lavorano. La produzione è ferma e non ripartirà a breve. I dipendenti in queste settimane hanno lavorato per evadere gli ordini e per il confezionamento dei prodotti, ma la cassa integrazione è comunque scaduta ed è arrivato il momento di valutare quali possono essere le prospettive, anche per gli ammortizzatori sociali. Ad oggi i costi energetici sono sensibilmente calati, ma non c'è comunque la prospettiva di riaccendere i forni spenti dallo scorso novembre e di riprendere la produzione in tempi brevi, anche perché siamo in un periodo di transizione dal punto di vista societario. Proseguono le indagini per l'assalto all'azienda orafa Jessica, mentre il settore si mostra preoccupato. Se fossimo al cinema lo chiameremo un perfetto Italian Job, il colpo messo a segno alla ditta orafa Jessica di Ponticino. Qui però non ci sono le atmosfere patinate e suggestive del film con Gesù Statham, ma una realtà che parla del terzo colpo più consistente, messo a segno nell'aretino dopo quelli della Salpe, sempre in zona, e della Fior a Castelluccio. Una modalità paramilitare, davvero commando esperto, che fa pensare gli investigatori orientati verso una banda pendolare, così come del resto fu per la Salpe, in questo caso si trattava infatti di banditi arrivati dalla Puglia. Studiato nei minimi particolari, secondo gli investigatori, con l'ausilio di un basista, che probabilmente ha fornito indicazioni precise sulla collocazione della cassaforte. Le indagini vanno avanti e possono contare sulle telecamere, che hanno già fornito spunti sul numero di persone presenti all'interno dell'azienda al momento del colpo, nella notte tra giovedì e venerdì, ovvero tre. Un'indagine delicata che si gioca sul dettaglio, per un colpo difficile da assorbire, anche per una ditta strutturata come la Jessica, 84 dipendenti, ed un fatturato robusto. Alcuni rappresentanti della categoria orafa si sono già espressi. Non parliamo di fare i soliti tavoli, ma garantiamo, hanno detto, condizioni di lavoro più sicure. Dibattito tra professionisti organizzato dal Centro Basaglia di Arezzo sul tema delle case della comunità. Nell'Aretino non mancano, ma il problema sarà il personale medico e specialistico. Chi le manderà avanti? Al Cas di Tortaia, il Centro Basaglia, Tina Chiarini, organizza un incontro per discutere sulla Casa della Salute versus Casa della Comunità. L'obiettivo è che la Casa della Salute non sia una scatola vuota, come appare adesso, ma dobbiamo capire con una riflessione che il Centro Basaglia si pone in questo convegno, come, quando, perché, chi ci va dentro, per realizzare l'obiettivo di prossimità, di multidisciplinarietà, che significa lavorare insieme, cosa che adesso non si fa, e di integrazione sociosanitaria, cosa che si fa pochissimo, con la partecipazione attiva dei cittadini. Quando è successa la pandemia tutti dicevano dobbiamo rinnovare, cambiare, investire, eccetera. Ora sembra che passata la pandemia tutte queste, diciamo, buone intenzioni non abbiano un riscontro altrettanto forte, perché le strutture probabilmente si faranno, non in quantità, però per esempio tutta la questione del personale è rimasta completamente abbandonata a se stesso. Noi abbiamo attualmente una situazione di personale che è peggio da quando abbiamo iniziato la pandemia. Dunque, il personale in questo momento noi possiamo dire di non lamentarci, perché abbiamo sia la parte medica, sia la parte infermieristica che regge, e anche la parte sociale. Il problema semmai riguarderà il futuro, perché io spero che da questo punto di vista la regione a cui afferisce la programmazione sanitaria e naturalmente anche il governo riescano a capire che c'è necessità di aprire, di dare un'attenzione maggiore a questa carenza che in questo momento ci preoccupa in senso futuro proprio della medicina. Apprezzata dal sindaco Alessandro Ghinelli l'operazione dei carabinieri della procura che ha messo i sigilli a 13 imprese che smaltivano rifiuti in modo illecito. Operazione Osiride cippato di scarsa qualità e sigilli agli stabilimenti ben 13. Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, plaude al blitz effettuato dai carabinieri della procura. L'operazione dimostra l'importanza di AISA, dice il sindaco, che ringrazia i militari dell'arma. Questa operazione, scrive ancora una volta, conferma l'importanza degli impianti di proprietà pubblica come AISA Impianti, che recupera i rifiuti urbani sotto forma di materia ed energia. Per sua natura l'impianto di San Zeno, scrive il sindaco, non deve fare profitti ma al contrario investire le risorse nel continuo miglioramento. La corretta gestione dei rifiuti solidi urbani quando è saldamente in mano pubblica protegge l'ambiente e si automigliora di continuo. Ricordiamo a tutti che l'impianto è sempre visitabile, quindi c'è massima trasparenza. Presto produrrà anche biometano che sarà a disposizione dei cittadini. Nelle prossime settimane sorgerà a Bosco Fratino il parco urbano che servirà principalmente per catturare anidride carbonica. E che la gestione scorretta dei rifiuti sia un problema lo dimostra l'operazione CEU con indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Importante dunque una gestione pubblica, come dice il sindaco, anche per evitare che la gestione stessa finisca nelle mani della mafia. Curerà le acconciature per il cast di un docufilm favorito a vincere una statuetta alla notte degli Oscar, ovvero All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras. Francesco Sarri, 24 anni a retino, sarà dunque alla notte degli Oscar. Si tratta di un'esperienza di grande rilievo per il giovane parrucchiere dopo quella che lo ha visto in primo piano a Venezia. Proseguono le verifiche per la stima dei danni ad Umbertide II e le scuole inagibili, mentre a Perugia è stato chiuso lo stadio per controlli. Situazione critica anche a Pierantonio. Dopo i sopralluoghi svolti fino a questo momento nell'Alta Umbria, in seguito al terremoto del 9 marzo, due scuole sono state dichiarate inagibili ad Umbertide. Si tratta della primaria e della scuola media della frazione di Pierantonio, otto classi in tutto che troveranno sistemazione in altri istituti scolastici di Umbertide. Lo ha riferito all'Ansa Stefano Nodessi, responsabile per la regione Umbria del governo del territorio. Inoltre dovranno essere probabilmente demolite due piccole stazioni ferroviarie che presentavano problemi già in precedenza lungo la ex ferrovia centrale Umbra, quella di Monte Corona e quella di Parlesca, dove è crollato il tetto. Per quanto riguarda le abitazioni, dopo le decine di segnalazioni di inagibilità da parte dei vigili del fuoco, bisognerà attendere i passaggi formali attraverso gli uffici comunali e i sopralluoghi degli ingegneri abilitati per la successiva eventuale dichiarazione formale dell'inagibilità. 13 invece le persone ferite in seguito alle scosse registrate nella zona di Umbertide, tutti a causa di fughe troppo precipitose per paura del terremoto. Feriti non da crollo ma da panico, commenta Stefano Nodessi. Nessuno quindi è rimasto ferito per eventuali crolli legati al sisma. Una buona notizia legata al terremoto. Dopo il sisma che l'ha distrutta il 30 ottobre del 2016, la cattedrale di Norcia, o meglio il cantiere, torna ad essere visitabile. Da giovedì 16 marzo sarà nuovamente possibile accedere e visitare l'interno del cantiere per la ricostruzione post-sisma della Basilica di San Benedetto a Norcia. Lo ha annunciato il Comune. L'iniziativa è in collaborazione con il Ministero della Cultura. Gli ingressi avverranno su prenotazione a giovedì alternati, in gruppi composti da un massimo di 15 persone, con ingresso alle 12 e uscita alle 12.45. Ogni gruppo sarà accompagnato dal personale addetto. Per prenotarsi gratuitamente entro il lunedì precedente alla visita, sarà possibile recarsi allo spazio DigiPass in via Solferino, negli orari di apertura e comunque tutti i pomeriggi, dal lunedì al sabato, dalle 15.30 alle 19.30. Il martedì e giovedì anche dalle 9 alle 12. Per prenotare si può inviare anche una mail a digipasschiocciolacomune.norcia.pg.it oppure telefonare al numero 0743-665853. Un bel passo in avanti per seguire la ricostruzione della cattedrale, simbolo della città colpita dal terremoto del 30 ottobre 2016. Novità nella zona sanitaria del Valdarno con la riorganizzazione dei CUP territoriali che partirà il 13 marzo. Dal lunedì 13 marzo partirà anche nella zona Valdarno la nuova organizzazione dei punti di prenotazione prevista in tutta l'ASL Toscana Sud-Est. L'obiettivo è quello di consentire per chi ancora non ha dimestichezza con la tecnologia online e prenota dalla app Toscana Salute, la prenotazione di visite e prestazioni sanitarie vicino all'ambulatorio dove vengono prescritte. Questo sarà possibile presso i CUP generalisti presenti nei centri sociosanitari del territorio, nelle case della salute e in molte farmacie. All'ospedale di Santa Maria Lagruccia sarà possibile effettuare prenotazioni specifiche. Il CUP dell'ospedale sarà disponibile per le visite richieste dagli specialisti, soprattutto le visite di controllo ma anche le altre prestazioni. Quindi chi uscirà dall'ambulatorio della Gruccia o chi sarà dimesso dall'ospedale troverà dalle 8 alle 18 il servizio aperto dove prenotare le prestazioni che gli sono state richieste e così chi sarà dimesso dall'ospedale. Anche il sabato mattina sarà aperto. A Montevarchi si ampliano gli orari del centro sociosanitario di Via Pogdora. Sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato mattina fino alle 12.30 togliendo appunto le prenotazioni delle ricette da parte dei medici di famiglia e dei pediatri che fino ad oggi si svolgevano all'ospedale. Quindi andremo ad ampliare appunto il servizio sul territorio e quello delle farmacie, quindi della farmacia comunale 1 e di quelle private che restano su Montevarchi. Ci saranno cambiamenti anche sull'Evane. I giorni di apertura varieranno al martedì mattina in concomitanza con il mercato e il sabato mattina il servizio che è sempre esistito della farmacia in Via Leona. Torna la grande musica a Casa Bruschi con la diciottesima edizione della stagione musicale. Si aprirà il 30 marzo la diciottesima edizione della stagione concertistica internazionale. Siamo con il presidente Luca Benvenuti della Fondazione Ivana Bruschi perché saranno appuntamenti come sempre da non perdere. Ma assolutamente, questo è il diciottesimo anno che portiamo avanti questo repertorio musicale dove i giovani talenti mondiali, devo dire, scelti dal maestro Roberto Pasquini vengono portati in queste sale delle meraviglie. In Tessa San Paolo accresce così di anno in anno anche l'approccio culturale alla nostra città ma soprattutto a questa fondazione che è sempre più polivalente quindi Casa dell'Antiquariato, Casa per le Mostre ma anche concerti di musica eccezionali. Anche quest'anno abbiamo i migliori vincitori di concorsi internazionali che vengono da tutto il mondo in esclusiva ad Arezzo e il primo concerto vede protagonista il violinista Fedor Rudin di nazionalità franco-russa perché è nato in Francia ma i genitori sono russi è una grandissima scuola, lui tra l'altro ha vinto i più importanti concorsi internazionali e viene ad Arezzo con un programma tra l'altro bellissimo accompagnato da Boris Kuznetsov e poi avremo i più importanti vincitori di concorsi internazionali che si alterneranno fino a fine di giugno una segnalazione particolare per la violoncellista del 25 maggio la Cioi che è veramente un talento incredibile è in esclusiva per noi in Italia e vale veramente la pena di venirla a sentire perché è giovanissima ma ha un talento straordinario Confartigianato Arezzo ha organizzato un incontro per i professionisti con Luca Pianigiani, consulente in innovazione digitale di fama nazionale Intelligenza artificiale, NFT, metaverso, monete digitali il futuro è già arrivato anche nella fotografia Prima di tutto dobbiamo capire che la tecnologia e la creatività sono due mondi che non necessariamente viaggiano sullo stesso binario quindi la prima cosa è il linguaggio noi dobbiamo trovare un modo per affascinare dei creativi che si innamorano di un'immagine, di un'emozione, di una parola dicendoli che esiste la tecnologia se noi puntiamo a parlare della tecnologia si raffredda tutto se noi parliamo invece di qualcosa di emozionante allora comincia a diventare un ingrediente interessante il lavoro prima di tutto è che se vogliamo fare qualcosa di creativo dobbiamo innamorarci di quello che facciamo la tecnologia può darci delle meraviglie però deve venire verso di noi e noi non andare verso la tecnologia Le novità nel vostro settore corrono davvero veloci? Quello che è il futuro è già presente? Stiamo parlando di cose che è quasi passato purtroppo nel senso che purtroppo perché siamo sempre in rincorsa in questo momento credo che il cambiamento sia la parola chiave di questo periodo siamo comunque in un cambiamento epocale che è quello dell'intelligenza artificiale, degli NFT di tutto il mondo della fotografia che ha un'evoluzione così veloce e pazzesca ancora una volta come quando c'è stato il passaggio dall'analogico al digitale dobbiamo rimetterci in gioco e rivedere tutti i nostri percorsi sia creativi di formazione e di informazione Sarà meglio o peggio? Sarà più fighissimo Il prof scienza al secolo Vincenzo Schettini ha letteralmente conquistato con la sua fisica gli studenti dell'ITIS di Bibbiena Il cinema d'Italia di Soci si è riempito con tutti gli studenti dell'ITIS e fermi di Bibbiena per incontrare Vincenzo Schettini in occasione del Festival del Libro organizzato dal Comune di Bibbiena un prof che ha conquistato TikTok con 800.000 follower e che presenta oggi il suo libro la fisica che ci piace Fisica che ci piace, ma perché piace? Beh, intanto piace perché potremmo parlare anche un po' della fisica di queste luci noi percepiamo la luce, percepiamo i colori proprio perché alcune lunghezze d'onda vengono assorbite dagli oggetti e altre vengono trasmesse perché il mare è blu perché il mare assorbe tutte le lunghezze d'onda e la luce tranne il blu che viene restituito ai nostri occhi e quindi per questo la fisica ci piace perché quando viene spiegata in maniera semplice è bella, è bella assai come si dice in Puglia Oggi ci sono i ragazzi ma ci sono anche gli insegnanti che dire agli insegnanti? Diciamo innanzitutto questo che ci sono tantissimi insegnanti che come me fanno cose molto originali semplicemente magari non lo fanno davanti a una telecamera quindi è corretto anche dire questa cosa qui agli insegnanti tradizionali dico guardatevi intorno provate a carpire qualcosa di questi nuovi linguaggi qualcosa che vi piace qualcosa che vi entusiasma e provate a sperimentare provate a portarlo in classe agli studenti invece voglio lanciare un messaggio molto molto importante non perdete di vista quelle che sono le skills fondamentali la capacità di concentrarsi e se quei telefonini vi hanno fatto arrivare a me quei telefonini a volte vi stanno facendo perdere la capacità di concentrarvi questo non ve lo potete permettere lo studio è sacrificio lo studio è tempo dedicato lo studio è rinuncia sfruttare la tecnologia in maniera limitata è sempre molto importante ricordarsi che la figura principale che voi davanti a voi si chiama professore lutto per il trainer ed ex giostratore Carlo Farsetti ad appena un anno e pochi mesi dalla morte improvvisa del padre Mauro ha perso anche la mamma la signora Flora Lazzeri spentasi a 72 anni dopo una breve malattia all'ospedale San Donato di Arezzo la signora Flora lascia i figli di Carlo e Moira e gli adorati nipotini i funerali si svolgeranno domani lunedì 13 marzo alla chiesa di Campriano alle 14.30 alla famiglia di Carlo Farsetti le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Teletruria questa sera subito dopo il nostro telegiornale domenica sportiva con Luigi Alberti centrata in particolare sul derby tra Livorno e Arezzo a seguire la differita della partita interna del Città di Castello ed è tutto per il nostro telegiornale grazie per averci seguito e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti